Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 89esima puntata del podcast di Marcos Box. Bene bene bene, apriamo questa puntata tornando nuovamente a parlare di CentOS. Sapete bene che cosa è accaduto nelle scorse settimane. Il team di CentOS ha deciso che l'edizione principale di CentOS sarà CentOS Stream e quindi d'ora in avanti ci toccherà, toccherà meglio a tutti gli utenti di CentOS, effettuare la migrazione verso l'edizione rolling release di CentOS con tutti quanti gli svantaggi che derivano dall'utilizzare una rolling release su un server. C'è stata tristezza, c'è stato sconforto, ci sono state reazioni da parte di alcuni sviluppatori che hanno deciso di forcare progetti e quant'altro per cercare di colmare il ruoto lasciato da CentOS e questa settimana un altro player ha deciso di scendere in campo appunto per cercare di accaparrarsi tutti quanti gli utenti CentOS scontenti che adesso sono orfani della loro distribuzione preferita. Oracle ha deciso di chiamare a raccolta gli utenti CentOS scontenti e sta proponendo a tutti quanti l'utilizzo di Oracle Linux. Oracle Linux è una distribuzione che è praticamente ovviamente gratuita, ovviamente open source e i cui rilasci seguono le versioni di Red Hat Enterprise Linux. Oracle Linux ha una versione per ogni versione equivalente di Red Hat, a partire dalla versione 4 sino alla più recente versione 8 ed è anche costantemente aggiornata, le versioni minori sono generalmente disponibili entro 5 giorni lavorativi, mentre le versioni errata dopo 24 ore, le versioni principali invece dopo 3 mesi dal rilascio di Red Hat Enterprise Linux, della edizione principale di Red Hat Enterprise Linux. Oracle Linux è interessante perché è compatibile ovviamente al 100% con i binari di Red Hat Enterprise Linux ed offre anche la possibilità di installare due tipi di kernel, un kernel sviluppato per Oracle Linux oppure il Red Hat Compatible Kernel. Entratti i kernel sono comunque supportati da Oracle e la differenza sta praticamente che l'UEK, il kernel sviluppato da Oracle per la propria distribuzione, offre dei miglioramenti in termini di prestazioni e scalabilità dei processi, nella gestione della memoria, miglioramenti del file system e nello stack di rete. Comunque, per facilitare la vita agli utenti, Oracle Linux ha anche reso disponibile su GitHub uno script per passare automaticamente una istanza di CentOS a Oracle Linux, rimuovendo eventuali pacchetti specifici di CentOS e sostituendoli con l'equivalente di Oracle Linux. Lo script supporta la commutazione di CentOS Linux 6, CentOS Linux 7 e CentOS Linux 8. Ovviamente non sono supportate le edizioni stream di CentOS. È un'alternativa che deve essere presa in considerazione se volete restare sempre nell'ambito dei Red Hat, altrimenti installatevi una Debian o passate a una soluzione come una Ubuntu server che non fa mai male. Passiamo adesso al mondo dei browser web. Mozilla questa settimana ha annunciato il rilascio di Firefox 84.0. Questa nuova versione di Firefox è molto importante per gli utenti Linux in quanto è la prima a supportare, a introdurre l'accelerazione hardware web render nella coppiata GNOME X11. Quindi se avete una distribuzione come l'ultima Ubuntu e aggiornata a Firefox 84 potete sfruttare l'accelerazione hardware web render il che significa, come nel mio caso, la scomparsa finalmente del tearing durante la riproduzione dei video, quindi non c'è bisogno più di andare a mettere mano nelle impostazioni di Firefox. Oltre a questo gli utenti Linux beneficiano delle più importanti tecniche che sono state introdotte nelle versioni precedenti di Firefox su altre piattaforme, tecniche a volte a migliorare la gestione della memoria a migliorare quindi le prestazioni e la compatibilità anche con servizi come Docker. Novità anche per gli utenti Apple perché questa versione Firefox 84.0 è la prima a essere compatibile con le CPU Apple Silicon e quindi pieno supporto ai nuovi soc di casa Apple. Web render comunque adesso è anche in distribuzione su Mac OS e Big Sur e sui dispositivi Windows con GPU Intel di quinta e sesta generazione. Torniamo adesso a parlare di Blender. Sapete bene che nel corso degli ultimi anni sempre più grandi dell'informatica hanno deciso di investire il proprio denaro e anche i propri talenti per supportare lo sviluppo di Blender e adesso c'è un nuovo supporto economico che arriva niente poco di meno che da Amazon. Amazon Web Services che è AWS per gli amici e l'azienda statunitense di proprietà del gruppo Amazon che fornisce servizi di cloud computing ha deciso di supportare lo sviluppo di Blender e di impegnarsi per i prossimi tre anni in qualità di membro patron entrando quindi nel fondo di sviluppo di Blender. si occuperà di finanziare in particolar modo e di supportare in particolar modo lo sviluppo degli strumenti di animazione dei personaggi. Che dire, complimenti a Blender che riesce a tirare soldi da praticamente tutti ed è l'ennesima dimostrazione di come un progetto open source se portato avanti nel modo corretto può tirare anche finanziamenti che servono per migliorare il progetto e che servono a rendere disponibile un software sempre più completo sempre più prestante che possa essere utilizzato da tutti quanti in maniera gratuita. Quindi, complimenti, complimenti a Blender. Passiamo adesso alle distribuzioni GNU Linux. C'è stato il rilascio la scorsa settimana della versione 20.1 di Linux Mint dominata in nome in codice UIS un nome migliore, non lo sapevano a scegliere forse era difficile scegliere un nome femminile con la U mi rendo conto che non c'era molta alternativa comunque, a parte il discorso del codename questa nuova versione di Linux Mint di cui il rilascio poi è previsto a breve mentre sto registrando la puntata, giorno 23 loro avranno preannunciato l'arrivo di questa nuova versione per Natale quindi a breve dovrebbe essere disponibile. Comunque, perché è importante questa nuova versione? Questa nuova versione è importante perché oltre a introdurre miglioramenti in Cinnamon che migliorano le prestazioni ha introdotto anche alcuni nuovi tool che rendono sempre più completa Linux Mint il primo riguarda le web app che sono praticamente delle applicazioni desktop generate da siti web noi su qualsiasi sito web possiamo generare una web app che si integra perfettamente all'interno del sistema e che quindi può essere sfruttata nativamente all'interno di Linux Mint altra novità riguarda iPodotix che è una nuova applicazione sviluppata dal team di Linux Mint che funziona da lettore IPTV miglioramenti poi sono stati fatti per quanto riguarda la gestione dei preferiti all'interno della distribuzione con un concetto molto avanzato andate a leggere l'articolo che trovate su Marcosbox sono stati fatti anche dei miglioramenti per quanto riguarda la gestione della stampa della scansione sono stati apportati miglioramenti nelle X-Apps e sono state anche introdotte ad esempio alcune migliorie per quanto riguarda i player video perché adesso l'accelerazione video hardware è abilitata per l'impostazione predefinita in celluloide e questo significa anche scomparsa del tearing ove presente comunque su Marcosbox trovate un articolo a riguardo che vi spiega tutte quante le novità di questo rilascio che appunto si dovrebbe concretizzare a breve nella versione stabile fra qualche... a meglio, entro la fine del 2020 quindi restate sintonizzati su Marcosbox dove troverete maggiori informazioni riguardo nei prossimi ore o giorni passiamo adesso alle ultime due notizie della settimana che riguardano due desktop environment la prima notizia riguarda quello che sarà la prossima interfaccia di Gnome Shell 40 il cui rilascio è previsto per marzo 2021 il team di Gnome Shell ha deciso di fare un restyling completo della panoramica dell'attività e questo nuovo redesign stravolge la metafora spaziale nel senso che adesso gli spazi di lavoro sono disposti orizzontalmente e non verticalmente quindi non c'è più la barra laterale ma abbiamo una dock è qualcosa di già visto se vedete se trovate somiglianze con i sistemi operativi iPadOS con iPadOS quindi il sistema operativo di Apple per i propri tablet bene, è quello il concetto e gli spazi di lavoro adesso vengono visualizzati in una sequenza continua cioè la dock in basso detta così è molto difficile da descrivere su Marcosbox trovate una serie di screenshot che illustrano meglio il concetto sono stati fatti anche dei lavori per quanto riguarda la griglia delle applicazioni e la gestione delle scorciatoie per passare da uno spazio di lavoro all'altro ripeto, andate a vedere su Marcosbox tutti i lavori che è stato fatto sarà molto interessante vedere la reazione del team di Ubuntu come si comporterà se si adeguerà con la dock in basso ma non credo proprio e come integrerà integrerà il tutto il team di Ubuntu si era detto la scorsa volta che non voleva più rompere tanto la compatibilità con Gnome Shell però adesso con questa gestione degli spazi di lavoro dovranno per forza di cose o si adegueranno o si separeranno un'altra volta dalla visione della Shell di Gnome comunque lo vedremo vedremo con la prossima versione di Ubuntu come si comporterà Ubuntu l'altra notizia riguardante il mondo di desktop environment Linux riguarda XFSE è stata annunciata la versione 4.16 del famoso desktop environment tanto apprezzato soprattutto dagli utenti quelli di una certa età che vedono in XFSE un desktop environment leggero ma altamente personalizzabile che è successo? è successo adesso che il team di XFSE ha cambiato rotta non ci mette più secoli come in passato per rilasciare nuove versioni infatti questa nuova versione la 4.16 viene rilasciata nonostante la pandemia con un anno e 4 mesi di lavoro quindi hanno fatto hanno fatto davvero molto presto questa nuova versione punta tutto sulla dare a XFSE una migliore identità visiva nel senso si è stata realizzata una nuova palette colori sono state realizzate delle nuove icone seguendo vagamente i principi di Adua Ita che sarebbe il tema che vediamo su Gnome sono stati fatti poi numerosi miglioramenti sia nel gestore delle impostazioni introdotto una nuova applicazione per la gestione delle applicazioni predefinite ma anche dell'associazione dei file predefiniti che adesso è stato tutto unificato in un solo posto la finestra di dialogo sono state migliorate per quanto riguarda la gestione dei display è stato aggiunto il supporto per il ridimensionamento frazionario sono state introdotte delle scorciatoie da tastiera nuove sono stati fatti alcuni miglioramenti piccoli in questo caso in Tuna e il rigessore dei file nel quale adesso per esempio è stata finalmente aggiunta la possibilità di sospendere le operazioni di copia o spostamento file che è una cosa che è molto interessante molto comoda ed è stato fatto anche un restyling con alcune cose nel pannello di XFCE con un nuovo plugin status try con una nuova animazione per l'auto hide e così nel quale ritocchi quella che nel complesso danno a XFCE 4.16 un aspetto più più giovane più in linea con i tempi sarà vengo a vedere quale sarà la prima distribuzione a integrare queste modifiche che quasi sicuramente sarà a mangiare a questo punto perché è un'unica che ha un si trova in una finestra temporale idonea per poter rilasciare aggiornamenti nel più breve tempo possibile seguirà poi a ruota molto probabilmente Subuntu la 21.04 che è un momento di sconforto nel mio cervello che non si ricordava la data di rilascio della prossima versione di Ubuntu e niente vedremo 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 di provare vedrò di provare a breve sulla prima distribuzione che riuscirà a integrare magari mi metto su una macchina virtuale e la provo con come si chiama con con Arch Linux e con questa ultima notizia si conclude qui questa 89esima puntata del podcast di Marcos Box molto probabilmente sarà anche l'ultima per questo 2020 che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti fate buone feste cercate di non mangiare troppo e divertitevi state con i vostri cali se potete davvero un augurio di cuore per un buon Natale e se non ci sentiamo se ci sentiamo direttamente nel 2021 fatemi fare anche un augurio di buon inizio anno per un 2021 si spera all'insegna di tante belle cose lasciamoci alle spalle questo 2020 di merda beh ciao ciao ah e dimenticavo ciao zio